Sulla questione vaccini agli operatori turistici interviene il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Il Cilento può rientrare a pieno titolo nelle strategie per la ripartenza del turismo della regione Campania, ha detto anche inserendolo tra le priorità del progetto di immunizzazione dei luoghi turistici. Ho molto apprezzato, continua Pellegrino, la volontà espressa dalla regione Campania e dal presidente Vincenzo De Luca di procedere alla campagna vaccinale nelle isole del Golfo di Napoli con l'intento ovviamente condivisibile di rilanciare il settore turistico e sostenere chi ha pagato probabilmente il conto più salato dell'emergenza Covid. Sono convinto che la richiesta di allargarne la portata anche alla nostra realtà risulti strategica nel grande progetto di rilancio dell'economia turistica in Campania. Siamo l'unico parco italiano ad entrare nella top 10 europea delle aree protette stilata da TripAdvisor con ben quattro riconoscimenti UNESCO e con il mare considerato tra i più belli d'Italia che vanta aree interne particolarmente suggestive. Un modello in termini di sviluppo sostenibile vista la capacità di creare economia e occupazione puntando sul turismo, sulla cultura e sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Una realtà di particolare rilevanza nel settore turistico della nostra regione che ha visto realizzati numerosi investimenti da parte di chi ha creduto nelle straordinarie potenzialità di questo territorio che in termini di ambiente, paesaggio, cultura, arte, tradizioni non ha nulla da invidiare a nessuno e che ogni anno continua ad affascinare, a trarre migliaia di visitatori. Queste le dichiarazioni di Tommaso Pellegrino, presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale al termine dell'incontro con i sindaci del Cilento svoltosi a Camerota alla presenza dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci.